Ben ritrovati, oggi affrontiamo quattro strade, parliamo della filosofia, della psicologia, della scienza e della religione e vediamo opportunità e limiti di ognuna di queste quattro strade per trovare noi stessi. Allora in primis partiamo dalla psicologia, sicuramente ogni approccio psicologico può in qualche modo aiutarti a trovare, ad identificare con la ragione i meccanismi, gli schemi, le reazioni interne che ti bloccano lungo la strada dell'autorealizzazione. La psicologia è quello studio che ti permette di conoscere a fondo la tua mente e i suoi processi e quindi anche di agire su di essi. Purtroppo molto spesso si limita appunto ad analizzare con la stessa mente i processi che la mente produce e quindi difficilmente coinvolge altri aspetti come quello fisico o quello spirituale. In realtà ci sono alcune discipline, soprattutto la cognitivo comportamentale, che coinvolgono anche l'esercizio e il lavoro sulla fisicità e sempre di più i psicoterapeuti si impegnano anche in percorsi più innovativi o meno tradizionali come quelli della bioenergetica di Reich e di Lowen, dove il coinvolgimento del corpo è fortissimo e dove si parla appunto di psicoterapia dal basso che va a controbilanciare la psicoterapia dall'alto, dove per psicoterapia dal basso si intende quella che dal corpo, il processo di lavoro sulla nostra psiche attraverso il lavoro sulla fisicità, sulle tensioni muscolari, sulla respirazione, su quella che Reich chiamava corazza e questa la psicologia dal basso va ad agire sui processi di pensiero dal basso, dal corpo. La psicologia dall'alto è quella che invece si fa con l'analisi classica, quindi dalla mente si va ad agire anche sul modo in cui reagiamo con la nostra fisicità, con il nostro organismo. Bene, quindi la psicologia può essere una strada ma ha un grande limite che è quello di affrontare comunque un problema sotto prevalentemente un aspetto analitico, di indagine razionale, di esplorazione di quei meccanismi che sono soltanto meccanismi molto spesso acquisiti. Traumi o automatismi dovuti alla ripetizione o meccanismi che scaturiscono dalla routine o in altri casi reazioni involontarie del corpo che però su quelle possiamo farci poco e anche con un percorso psicologico possiamo imparare un po' a controllarle ma da solo il percorso psicologico, neuropsicologico non ce la fa. Abbiamo poi la religione, la religione ci fa fare invece un salto, un salto nel vuoto, ci fa affidare, quindi il fattore fondamentale e importante è quello di aprirci all'altro da noi, di uscire dall'ego, dall'individualità, di muoverci fuori dal piano della materia, fuori dal piano della concretezza degli esseri umani di questo mondo e delle cose misurabili. Tuttavia spesso ci chiede in cambio un dedicarci, un sacrificarci, un donarci, un ringraziare qualcuno fuori di noi per la nostra esistenza e quindi ci convince che ci siamo noi su un piano e poi c'è un piano dove qualcuno di superiore ci sta facendo un favore. E questo è l'aspetto che a me non piace tanto perché difficilmente ci fa ricordare che noi siamo parte di quella trascendenza, che noi siamo già quel Dio e che quel Dio è già noi. Sì, lo si dice in alcuni passaggi, nelle varie religioni, ma poi nel modo di fare, nelle pratiche, nelle discipline, nei riti, questa cosa si tende a trascurare. Quindi la religione ha di positivo che ci apre al di fuori dell'ego e del concreto, ha di negativo che ci chiede di ringraziare qualcuno o di sacrificare, di donare o addirittura di sentirci in colpa rispetto a qualcosa di trascendente che ci ha formato e quindi ci allontana dal nostro percorso rispetto alla nostra essenza. Poi abbiamo la terza strada che è quella della scienza. Anche la scienza può aiutare a trovare delle risposte, a trovare delle risposte soprattutto da dove vengo, a chi sono, dove vado e quant'altro. Chiaramente la scienza ci dà anche dei supporti, ci dà degli strumenti, la medicina ad esempio, la chimica ci può aiutare a focalizzare, ad essere più concentrati, ad abbattere dei sintomi, dei disagi che ci bloccano, a trovare degli strumenti che ci permettono più facilmente, dei strumenti tecnici che ci permettono di realizzare un sogno, un obiettivo, uno scopo. Tuttavia la scienza ha il limite, contrario a quello della religione, che si ferma soltanto a ciò che è appunto misurabile e quindi il limite intrinseca nella ricerca dell'essenza, del destino di se stessi, del proprio destino, della propria realizzazione, è quello di abituarci, se seguiamo soltanto la scienza, a prendere in considerazione solo ciò che è misurabile, statisticamente rilevante, comprovato, accettato dalla comunità scientifica, da una abbranco dall'altra, quindi quello che è normato, che è dogmato, che è schematizzato e che soprattutto appunto chiunque può verificare nello stesso modo e quindi la scienza in questo caso ha l'eccessiva dipendenza dalla verificabilità e della misurabilità, quindi ci tiene in una realtà assolutamente fisica, concreta. Infine abbiamo la filosofia, la filosofia potente, la capacità di farci aprire alle grandi domande, così come la scienza, però ad affrontarle, ci aiuta ad affrontarle con un approccio appunto più di riflessione, di speculazione intellettuale, non andando a utilizzare nei laboratori gli strumenti, il telescopio, il microscopio, le provette, eccetera, eccetera, ma a porci delle grandi domande e soprattutto ci fa interrogare sull'etica, sul bene e sul male, sull'estetica, sul bello e sul brutto, ok? Ci fa interrogare sulla sostanza profonda dell'universo, c'è soltanto un piano materiale, c'è un piano spirituale, sul tempo, sul prima, sul dopo, fa tutto ciò benissimo, lo fa comunque cercando di solito una verità che è una verità universale, una verità unica, il vero bene, il vero male, il vero giusto, il vero sbagliato, il vero vero, il vero falso, ok? E questo ci mette in una condizione in cui tutti dovremmo avere una risposta che va bene per tutti, quindi perseguire una strada assoluta, unica, ripetibile, seriale. Io su questo nutro dei dubbi, quindi anche la filosofia, intrinsecamente, oltre che dei punti di forza, dei punti di debolezza. E allora cosa facciamo? Allora li mettiamo tutti insieme, uniamo e creiamo una sorta di, come la possiamo chiamare, psicoscienza religiosofica, ok? Psicoscienza religiosofica, cosa che fece il mio maestro quando nel 96 per la prima volta mi parlò della destinoterapia e disse appunto, mi fece un discorso come quello che avevo appena fatto e mi disse appunto che la destinoterapia univa gli aspetti positivi di indagine costruttiva di queste quattro discipline ma poi andava oltre e soprattutto lasciava indietro le zavorre, i blocchi, gli obblighi di ognuna di queste quattro discipline. E quindi crea una sorta di quinta via, vorremmo, volendo citare Gulgev e Upeschi con la quarta via, lui diceva che crea una sorta di quinta opzione, di quinta strada. Ecco che ti esorto allora a guardare, se non l'hai ancora fatto i video del mio canale, e di approfondire come la destinoterapia integra gli aspetti positivi e utili della scienza, della religione, della psicologia o della filosofia. Buona vita, buon tutto, buon destino da Rosario Alfano.